Robotic World, la prima manifestazione in Italia dedicata alla robotica industriale e al mondo dell'automazione. La robotica oggi è al centro dell'attenzione? Sì, al centro dell'attenzione nel mondo e in Italia, perché l'Italia e Torino, e il Piemonte in particolare, sono state, sono e saranno, uno dei luoghi più importanti al mondo per lo sviluppo della robotica. Noi abbiamo un'esperienza antichissima all'inizio degli anni 70, alla fine degli anni 60. Nel territorio italiano ci sono stati molti imprenditori, molti ingegneri, molti tecnici che hanno sviluppato la robotica, la mecatronica e l'automazione in generale. È un punto di forza della nostra economia e direi della nostra cultura. Ecco, quindi questo tipo di tecnologia nasce a Torino? Nasce in diverse parti d'Italia, in parallelo, a Torino in particolare. Perché a Torino? Perché a Torino già negli anni 70 c'erano diverse aziende, con diverse esperienze, brave nella meccanica, nel software, già a quei tempi, nell'elettronica. L'unione di queste tre cose fa la mecatronica, fa la robotica, fa l'automazione. Noi abbiamo il dovere di preservare questa cultura così antica, direi, e di proiettarla nel futuro salvaguardando quelli che sono i nostri know-how. L'automazione che tipo di rapporto ha con la vita quotidiana? Ma l'automazione, io mi sono sempre occupato di automazione di fabbrica, di automazione industriale. In questi ultimi anni, a partire, direi, dagli anni 2000, è sorta una nuova branca della robotica, la robotica di servizio, che è parente stretta della robotica e dell'automazione industriale. Questa nuova branca della robotica di servizio prevede l'utilizzo di robot in altri campi non industriali, ad esempio nella medicina, nell'agricoltura, robot che vanno a salvare le persone, eccetera. C'è una miriade di sottosegmenti dove robot mecatronica e automazione sono utilizzati e saranno utilizzati. Quanto è importante investire in questa disciplina? Enormemente. Primo, fa parte del nostro patrimonio culturale, non tecnico, culturale. In secondo luogo, noi non dobbiamo competere sul costo del lavoro, noi dobbiamo competere con l'innovazione. Utilizzando la robotica, la mecatronica, l'automazione si inventano ogni giorno, sia dei nuovi processi, sia dei nuovi prodotti. Solo così si può progredire.